Musica Sono Olivier Bremer, sono il responsabile di blablacar.it che è un sito che permette di scambiare passaggi in auto quindi se io sono un conducente, faccio un viaggio in macchina e ho dei posti liberi posso inserire un annuncio gratuito su blablacar.it e posso così trovare dei passeggeri che vogliono condividere con me la stessa tratta e chiaramente mi danno anche un contributo spese quindi in questo modo si riesce a ridurre notevolmente le spese di benzina e pedaggio e si viaggia in compagnia quindi spesso il viaggio diventa anche molto più piacevole rispetto a viaggiare da soli per fare un esempio sul Milano-Roma si può trovare un passaggio a 30 euro che è chiaramente molto di meno rispetto al treno aereo e il conducente invece di spendere 100-110 euro per benzina e pedaggio riduce già di 90 euro le proprie spese caricando tra i passeggeri è un servizio gratuito, la registrazione non ha alcun costo basta visitare blablacar.it e cercare partenza e arrivo oppure inserire una propria offerta di passaggio blablacar.it nasce proprio come mia esigenza personale perché io mi trovavo in Germania e in Germania è diffusissimo utilizzare l'auto condivisa per spostarsi cioè soprattutto per gli studenti che non possono permettersi i biglietti del treno che sono molto cari trovare un passaggio in macchina vuol dire risparmiare il 60-70-80% però una cosa del genere in Italia ancora non esisteva quindi ho pensato ma perché non provarlo anche qua all'inizio è stato un hobby e poi a un certo punto è diventato un lavoro e adesso siamo una start-up internazionale finanziata da degli investitori importanti e riusciamo anche a costruire degli utili che ci permettono di sopravvivere